ho una bella tonale e oggi così, niente grandi quote per le prime nevicate tra l'altro c'è di solo altissimo e ancora un po' mi hanno fatto 170 metri di livello di lì? di là mettiamo Giacomo Cis Cis è il paese sui Val di Sole Giacomo da Cis è lo stesso? ah, viene da lì? abitava là vai 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 non frena neanche e adesso salita sono anche tornati di moda i pattini sui treni salita a parte intornarsi ma quale monocorona? quale 10.52? chiede il sole eh? il sole dove? no alle visioni alle visioni Paolo un po' Paolo nel San Pietro beh in salita questa 26 comunque ah al supercar ovviamente viene sulla ruota davanti e ogni pedalacca deve esserci un piccolo sbilanciamento del mio culone dietro che cosa è? come fate mangiare l'alto? calma 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 c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' avete mangiato gli asparagi? no lo strappetto altra volta avevamo provato ad andare dritti di qua stiamo fermati malamente in mezzo siamo fermati malamente in mezzo rampettati sai Paul? oh eccoci sulle sponde del lago di Ledro qui c'è la prima ristopizzeria tutta cazzo 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 ecco dove perdo un po' la 27 dove scese lago di Ledro ma stanza forse ancora ma vieni al di Meola? no ah no? mi sento molto meglio adesso è l'amaro 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 di Ledro è un lisostato al picco rosso al picco del gailo sulle sponde del lago di Ledro per presentare la full dynamics abbiamo una forcella son tour sr incredibile camera d'aria attaccata con un altro isolante ma di due colorazioni quindi due resistenze differenti freni AD no perimetrali Deor Shimano ruote 26 pollici direi che per questi tour la 26 si presta ancora bene adesso vedremo in discesa sicuramente andrà la metà stacco manubrio con regolazione per inclinazione avanti indietro la Nino Schurter tre corone davanti sette dietro sufficienti per fare qualsiasi cosa forse una forcella davanti che funziona non sarebbe male però bene dai 655 metri di dislivello ho un bel bagno fresco un bagnettino piccolo piccolo la famiglia fa bravi son Rock god chias. tempo po Spero che ci siano le viti avvitate bene. La rampetta, uff zio, il parafango cosa serve, hai visto, antiestetico, diciamo che in discesa la 29 Pagnole, diciamo un'altra cosa, non dico perché questa non ha l'amontizzatore davanti, la lunghezza del manubrio non aiuta tantissimo, perché sarà 40 centimetri forse, soprattutto un vecchio spaccato. Buona, buona, dai non c'era neanche tanta gente, dove? Qua. Lo superlizamento. No, no, che devo pulizare. No, 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 che devo pulizare. voglio concludere la spiegazione di questa fantastica bicicletta con il parafango posteriore va capito? non ho cosa dire dei freni diciamo che non sono i freni migliori funzionano quasi bene come un disco se non li uso e basta voglio dire ottima bicicletta la troverete in vendita bene bene